Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faremo vedere la nuova pasta clay dei cinesi, è appena uscita. E passiamo allo spacchettamento. Ok, passiamo alla mia che è gialla. Passiamo alla mia che è gialla. Allora, comunque queste pasta le trovate da cinesi a 1,20€. Già si vede che è super butter. Allora, ok, non vuole uscire, è troppo morbido. Aspettate, eh. Vi consiglio di tagliarlo un po' col coltello. Non col coltello, perché i piccoli si tagliano. Fatevi aiutare da un adulto. Allora, usate le forbici. Bravi, bravi. Ok, ce la sto per fare. Mettiamo in pausa. Allora ragazzi, con i nostri potenti mezzi, l'abbiamo tolta dalla confezione. L'ho tolta io, ovviamente. Ecco, perché io non ce la facevo? Anche se è più piccolo, Lorenzo è più forte di me. Wow, che bello, Lorenzo. Sono maschio. Lorenzo, vieni a riprenderti a vicino. Ok, guardate che bello. Aspetta, vi facciamo vedere l'effetto butter. Vieni nel comodino. Vieni, seguimi. Ecco ragazzi, guardiamo l'effetto butter. Più vicino. Guardate, guardate. E' super butterosa. Cioè, è butterosa al massimo. Cioè, anche se Clay è bellissimo. Quindi, è un butter mischiato alla Clay. Ora passiamo al mio. Ciao. Ciao. Ciao a tutti ragazzi e ben tornati allo scambio. No. Allora, è un po' stupido perché io avevo messo in pausa, ma non devi dire nello scorso video. Comunque, ogni volta che faremo fatica ad aprire qualcosa, metteremo in pausa per non farvi aspettare. Comunque, a pe... Siete nei commenti che ha ragione, o io o lui. Secondo voi, è più pazza Lorenzo o sono più pazza io? Scrivetelo nei commenti. Comunque, hashtag chi è più pazzo. Ecco, lanciamo un hashtag. Allora, comunque prova la tua pasta. La stavo già provando, non resiste. Intanto io sto ancora giocando con la mia, c'è. Ok, facci vedere l'effetto butter. Vieni. E ora... Vai, 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 vai. Bella. Non ho fatto l'effetto fluffy, scusate. Ecco. Ecco. Ma lo fa meglio il mio. E uh, e te l'hai steso? Perché non mette a fuoco? Metti a fuoco. Ok, spero che... Sì, sì, adesso sta mettendo un po' meglio a fuoco. Comunque... Ecco. Ciao. 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 Grazie a tutti.